dobbiamo allora completare la lezione che abbiamo visto ieri abbiamo parlato del serbatoio abbiamo rivisto adesso alcuni particolari e volevo fare alcuni commenti il primo è che la relazione di piccolo di s perché non esce il mao secolo qua la relazione di piccolo minore di rt più 1 minore di v grande è una relazione che è strutturalmente soddisfatta dalla funzione che definisce r quindi questo vincolo è un vincolo che non serve scrivere nei problemi perché è implicito è incluso nella definizione stessa della funzione r quindi non va inserito ricordatevi che ogni vincolo che voi inserite in un problema va verificato e un vincolo di uguale a un vincolo di questo tipo costa tempo di risoluzione quindi peggiorate semplicemente il tempo di calcolo senza averne nessun vantaggio perché è sempre soddisfatto il vincolo analogo in cui però al posto di r ci metto u è un vincolo sbagliato non ha senso questo è errato perché? perché non è vero che u deve essere vincolato tra questi due estremi questi due estremi dipendono da quello che accadrà guardate l'nt più 1 che non mi è noto all'istante t in cui prendo la decisione quindi non posso rispettare questa condizione la condizione di u è quella di essere nell'insieme di ammissibilità che avete visto abbiamo definito ieri e qui al posto di nt più 1 c'è il massimo valore di nt più 1 e qui c'è il minimo valore di nt più 1 quindi questo è è il vincolo corretto udt appartenente a u grande di t st terzo se nt più 1 fosse noto non lo è mai ma mettiamoci in un'ipotesi di sistema deterministico quindi ci è noto in anticipo come andrà la flusso allora in quel caso r di t più 1 è sempre uguale a u e posso confonderli perché è chiaro che se io conosco in anticipo il valore di n posso prendere l'esatta decisione il motivo per cui u è diverso da r è che nt più 1 non è noto al momento in cui prendo la decisione quindi se mi metto in condizioni deterministiche quindi di afflusso certo nel futuro io ho l'identità il che significa che troverete noi non lo faremo qui ma troverete in letteratura molti articoli e molti trattati che lavorano sotto l'ipotesi di determinismo e quindi non si pongono il problema della differenza tra U e R il problema della differenza tra decisione e attuazione della decisione si pone solo quando ciò che accade nell'intervallo in cui viene realizzata la decisione ciò che accade non è noto al momento della decisione ci sono poi forme alternative dell'equazione di continuità noi non le useremo mai nel corso ma di nuovo ve lo faccio vedere perché vi può capitare di leggere letteratura o vedere articoli in cui vengono utilizzate la prima è più ovvia è quella di esprimere l'equazione di continuità in livello anziché in volume non è altro che la nostra equazione diviso per S questa equazione è facile da ottenere solo quando il sistema è cilindrico quindi quando l'invaso ha una superficie S che è indipendente da H quindi avete un cilindro nel serbatoio in quel caso lì è chiaro che dividendo tutto per S ottenete questa equazione l'ho scritto al solito nel caso Nt più 1 perché sono in condizione di cilindricità Rt più 1 a sua volta è data da un'equazione che ho scritto come R sottosegnato semplicemente per dire che si ottiene da questa facendo la sostituzione di S con H e quindi è una semplice derivazione dalla funzione basta sostituire al posto di S S piccolo l'invaso st ci metto al suo posto S grande area per H e questa è una funzione di H l'ultima è che posso addirittura esprimere tutto in termini di livello quindi anche l'afflusso e il rilascio posso parlare di fini darli in termini di livello di lago quindi ho un afflusso che mi fa salire il lago di 5 cm ho un deflusso in cui svuoto 3 cm di lago è chiaro che essendoci una superficie univocamente definita questa operazione definire i cm di lago è equivalente a definire un volume allora concludiamo il modello di serbatoio ha questa forma quando il serbatoio è già in esercizio quindi il serbatoio esiste non lo dobbiamo costruire abbiamo l'equazione di transizione di stato che non commonto più perché la conosciamo la funzione r la continuiamo a scrivere così ma a differenza di quando abbiamo iniziato la lezione ieri in cui r era una funzione ignota che dovevamo determinare adesso r è una funzione che conosciamo perché possiamo calcolare numericamente per punti con la densità che vogliamo perché possiamo avere qualunque densità di SUAEE e possiamo calcolarla per tutti poi c'è un insieme di uscite qui ho scritto tutte le uscite che normalmente ha il serbatoio non in tutti i problemi avete tutte le uscite possiamo avere come uscite R pensate quando avete degli utenti a valle e l'indicatore è il deficit allora avete bisogno di sapere quanto acqua viene fornita e l'acqua fornita dipende dalla portata erogata dal serbatoio quindi R è in uscita è quello che io voglio ottenere dal modello se ho problemi di pieni sono interessate a DAC potrei avere interessi sulla superficie a volte molto raro questo posso avere interessi sulla portata evaporata pensate a problemi di precipitazione sulle sponde del lago e di umidità dell'aria è legata e poi ho i controlli ammissibili che sempre c'è che non è un'uscita allora equazione di transizione componenti della trasformazione di uscita che in generale è un vettore potrei avere tutti e quattro i vettori questi sono le quattro componenti della trasformazione di uscita controlli ammissibili insieme di ammissibilità se il serbatoio viene progettato invece l'equazione è leggermente diversa perché l'equazione è quella di prima una volta che io ho definito una capacità up maggiore di 0 ma se la capacità up è nulla è chiaro che io non ho invaso domani e quindi l'equazione di transizione mi dice st più 1 uguale a 0 come lo è oggi le equazioni di trasformazione di uscita sono le stesse l'equazione l'insieme di ammissibilità dei controlli è uguale a prima ma con la differenza che adesso dipende da up perché è chiaro che se up è uguale a 0 l'insieme dei controlli è ammissibile e l'insieme è vuoto non posso prendere nessuna decisione perché non c'è il serbatoio ed infine si aggiunge un insieme di ammissibilità per la decisione di pianificazione up che generalmente è un insieme di valori possibili più lo 0 perché lo 0 è normalmente un punto isolato di questo insieme non fate un serbatoio da 2cc 3cc 4cc centimetri cubici o non esiste e quindi è 0 oppure il più piccolo serbatoio è 10 milioni di metri cubi quindi avete un intervallo di valori da 10 a 50 e il punto 0 isolato la funzione r r notate che dipende da up perché anche qua se variate la capacità del serbatoio è chiaro che la funzione si modifica in che senso si modifica e sapete che condizioni di afflusso nullo la funzione r la funzione r è limitata inferiormente da una funzione che nulla e poi sale nel momento in cui prendete arrivata la quota dello sfioratore e allora se questo asse è s questo punto è up man mano che aumenta up questo si sposta verso destra e quindi la funzione r è grande e anche lei dipende da up tutto questo nel capitolo 5 domande? domande?